Un percorso alla scoperta del rinascimento a Sassoferrato e nei suoi dintorni. È quanto si propone la mostra ospitata a Palazzo degli Scalzi da sabato 24 luglio fino al 7 novembre prossimo, incentrata sulla figura di Pietro Paolo Agabiti, artista sassoferratese, attivo in tutta la valle tra il Sentino e il Lessino, come pittore, scultore ed architetto tra il 400 ed il 500, al tempo dei Della Robbia e di Raffaello. Oggi presentiamo una mostra di territorio, ha detto l'assessore alla cultura Giorgia Latini. In questo periodo stiamo inaugurando iniziative di altissimo livello che valorizzano gli artisti marchigiani ed il contesto di riferimento. In questo modo creiamo un circuito di grande valore che, come Regione, precisa ancora la Latini, sosteniamo con convinzione perché abbiamo a cuore la crescita delle piccole ma molto attive realtà dell'entroterra. Sassoferrato costituisce in questo senso un esempio. I luoghi della cultura hanno sofferto troppo a causa della pandemia e oggi, nel rispetto delle norme anti-Covid, devono restare aperti e accessibili a tutti. Ripartire dall'arte, soprattutto per un territorio come il nostro, come Sassoferrato, per uno dei borghi più belli d'Italia, è veramente importante e significativo. Dare valore all'arte, ai nostri concittadini che nel tempo si sono contraddistinti, sono autori di valore, dà veramente una grossa spinta dal nostro punto di vista per la ripartenza, ripeto, soprattutto in questi nostri piccoli borghi che dalla cultura possono veramente passare anche alla valorizzazione turistica del territorio in generale, su cui fra l'altro stiamo lavorando molto da diverso tempo. Stiamo iniziando a vedere diversi turisti in movimento, la stagione sta partendo, speriamo sinceramente di rivivere quello che è successo già l'anno scorso. La tragedia della pandemia ha dato un'occasione importantissima ai piccoli borghi dell'entroterra, soprattutto marchigiano, e ha dato la possibilità alla grande popolazione di scoprire le perle che sono troppo spesso, mi verrebbe da dire, nascoste e non conosciute, mentre invece abbiamo veramente tantissimo da poter dare. Lo scorso anno abbiamo avuto dei risultati importanti, speriamo che anche quest'anno si possa ripetere questa iniziativa. In questa direzione va anche la volontà di mettere a disposizione di chi viene a visitare i nostri borghi un evento importante come quello della mostra di cui questa mattina andiamo a parlare. Tra le novità più interessanti della mostra, oltre alle opere come la consegna delle chiavi a San Pietro, Pesca miracolosa, Sacra conversazione, Quovatis e Predella custodite nella chiesa di San Pietro, c'è la scoperta di nuove personalità artistiche, come l'anonimo di San Bartolomeo, che nel 1510 dipinse la pala per l'altare maggiore della chiesa omonima. La mostra delinea anche la figura di Agabiti come scultore, i documenti non sono molto chiari in merito, ma si è potuto attribuire a questo artista una serie di opere di qualità altissima, come il Cristo e Angeli della chiesa di San Facondino, che dimostra come la formazione in Veneto sia stata importante anche per la produzione plastica.